Il 4 novembre è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. È la data in cui si ricordano tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. È la data in cui si ricorda l'anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Quest'anno la celebrazione ha assunto significato ancora più particolare, poiché si celebra il centenario del milite ignoto. Infatti, cento anni fa c'è stata la tumulazione del soldato senza nome nel sagello dell'altare della patria. Le cerimonie per il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate sono partite dal ricordo di quell'importante momento storico che onì l'Italia nell'omaggio a tutti i caduti in guerra. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona sulla tomba del milite ignoto e in occasione del centenario si è voluto ripercorrere il viaggio del milite ignoto con un treno rievocativo, partito da Aquileia e arrivato l'altro ieri a Roma, lo stesso percorso fatto cent'anni fa. In questi giorni il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacrificio per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera e democratica. Con queste parole il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato il solenne momento con un messaggio inviato al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. In ogni città e comune d'Italia tutte le amministrazioni hanno celebrato questa festa davanti al Monumento dei Caduti, portando una corona da loro e facendo un discorso alla popolazione. Ammistretta dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, a cui hanno partecipato gli amministratori, con in testa il primo cittadino Sebastiano Sanzarello e il Vice-sindaco Dina Musile, è stata deposta la corona da loro presso il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto. Presenti anche gli studenti delle scuole, le associazioni e rappresentanti dell'Associazione Militari e Redugi di Guerra. Celebrazioni a Santo Stefano di Gamasta, Castel di Lucio, Motta da Fermo e Retano. Mentre il Comune di Pettineo ha commemorato i propri caduti aderendo all'immito del Lanci e del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, procedendo a conferire al Milite Gnoto la cittadinanza onoraria e a collocare una targa commemorativa nella mattinata di oggi presso Piazza Duomo. Noi oggi, il 4 novembre 2021, in seguito all'adozione di una delibera votata all'unanimità dal nostro Consiglio Comunale, alla presenza delle istituzioni civili, religiose, l'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Guardia di Finanza, alla presenza delle associazioni civili, religiose, abbiamo conferito la cittadinanza onoraria di Pettineo al Milite per testimoniare nei confronti delle nuove generazioni quello che rappresenta la figura del Milite e che deve rappresentare la figura del Milite per tutti noi italiani, simbolo di appartenenza, simbolo di unità nazionale, ma soprattutto simbolo di ripudio della guerra come strumento di oppressione dei popoli.